Nelle puntate precedenti SIGA era il leader assoluto, fulgido esempio di innovazione, avendo introdotto i primi giochi veramente in 3D. Il SIGA Saturn è successore diretto o quasi del SIGA Mega Drive, o del Genesis se consideriamo la persona americana. Ed è con queste premesse che comincia la tragica commedia di SIGA, che in quegli anni riuscì a inanellare una sequela di errori tale da sfiorare il ridicolo. Come si nota dalle specifiche, l'hardor è molto complesso, è come se SIGA avesse voluto complicarsi la vita da sola. Doppio processore, ma un unico pass condiviso, ovvero un collo di bottiglia, difficile da girare senza virtuosismi di programmazione. Ma l'asso nella manica di cui parlavo non era purtroppo un gioco di Sonic. Il Sonic Team, infatti, finito i lavori su Sonic 3, si era messo al lavoro su una nuova EPIC. E quindi, Sonic, ma che fine aveva fatto? Il nome del gioco che avrebbe dovuto salvare le sorti del SIGA Saturn era Sonic Extreme, e non fu mai completato a causa di numerosissime problematiche interne che includevano ripetuti cambi di motore grafico e un caso di polmonite nel team di sviluppo. Il progetto venne definitivamente abbandonato nel 1997, non essendo completabile in tempi brevi, tali da abbattere la concorrenza della Nintendo e della Sony, che aveva dato forma all'enorme successo rappresentato dal progetto PlayStation, e non essendoci sicurezza a gioco completato che sarebbe piaciuto ai giocatori. Il team di sviluppo si dedicò alla preparazione del gioco successivo di Sonic, per Trincast, Sonic Adventure. E nonostante una buona partenza in madrepatria, gli errori al lancio americano, che si riproposero in Europa, penalizzarono una console che non aveva nulla da invidiare a livello hardware alle rivali Sony e Nintendo. SIGA, in effetti, non riuscì mai a colmare questo divario che si venne a creare. Alla fine del 1997, la sua quota di mercato era scesa al 12%, rispetto al 47% di Sony e al 40% di Nintendo. Inoltre, come se non fosse già abbastanza, SIGA decise che alcuni dei capolavori usciti in Giappone, tra cui vari RPG e giochi del calibro di Radiant e Silver Gun, non avrebbero mai visto la luce in America e in Europa. Difatti, ad oggi, il catalogo dei giochi del Saturn presenta discrepanze enormi tra le varie region. Insomma, SIGA, in quegli anni, non smise mai di darsi la zappa sui piedi. Insomma, mi spiace dirlo, ma SIGA Saturn è una sequela infinita di occasioni mancate, una di quelle console che avrebbe potuto segnare la storia dei videogame, ma che non l'ho affatto. Ma paradossalmente è una console invecchiata molto bene, forse meglio di PlayStation. Calma, calma, ora vi spiego cosa voglio dire. Bisogna comprendere che in concomitanza della nascita del 3D nei videogame, la stampa specializzata si era schierata a favore di quest'ultimo, additando e penalizzando ogni uscita di un gioco 2D come obsoleto o poco innovativo o appartenente a un genere in declino. Sappiamo tutti la verità. Esistono ottimi giochi in 3D e ottimi giochi in 2D. E viceversa pessimi. Ma all'epoca, la scelta di SIGA di potenziare l'hardware per un 2D sopraffino a scapito del 3D, penalizzò tanto la console. Anche il parco titoli, che comprende tantissime conversioni 2D arcade perfect da titoli SNK e Capcom, all'epoca furono accolte tiepidamente dalla stampa specializzata. In ottica retro gaming, però, il Saturn è di contro un piccolo gioiello. Esatto. Dove PlayStation arrancava nelle conversioni da sala, il Saturn brillava. La memoria a ramma aggiuntiva della console e la sua particolare architettura si prestava benissimo a queste conversioni. In quegli anni ci ha regalato capolavori del calibro D. Virtua Fighter 1 e 2. Virtua Cop. Ma la lista è lunghissima. Insomma, il Saturn aveva il pregio di essere la console perfetta per chi amava i giochi arcade e chi non aveva paura delle barriere linguistiche. Difatti, molti dei suoi giochi migliori erano disponibili solo nella variante giapponese, non localizzati né in inglese né tantomeno in italiano. Il design del Saturn mi è sempre piaciuto, è una delle console più belle mai realizzate a mio avviso, ma sono gusti personali. Andiamo ad analizzare invece le caratteristiche oggettive. Console di quinta generazione con supporto a HD-ROM uscì in diverse versioni, bianca per il mercato giapponese e nera per quello americano ed europeo. Esistono inoltre rarissime versioni prodotte da Itachi, Samsung e JVC. Nella parte superiore, in ordine, troviamo l'alloggiamento per le cartucce di espansione della RAM, il vano per l'inserimento dei CD, a sinistra il tasto Power, al centro il tasto di apertura del vano e a destra il pulsante Reset, frontalmente dotata di due ingressi Joypad. Sul retro, lo sportello per accedere alla batteria tampone usata per i salvataggi, l'ingresso per l'alimentazione e l'uscita video RGB. Il Joypad anch'esso, progettato per il 2D, era un'evoluzione di quello del Siga Mega Drive, con sei pulsanti anteriori e due dorsali. La versione americana e giapponese differivano sempre nel colore e nient'altro. Allora Giovanni, solo lati negativi parlando del Siga Saturn? Ma guarda, la console di per sé era superiore alla Playstation sotto tantissimi punti di vista, ma gli errori di Siga furono tanti e tali da decretarne un fallimento che non meritava di certo. Decisamente no. La complessità dell'harder, unita alla difficoltà del linguaggio di programmazione, abbiamo parlato, l'Assembly, il parco titoli limitatissimo a lancio, è una Playstation che a quei tempi era guerritissima, sono stati tutti i coppi sparati in faccia a Siga che non ha saputo rispondere a tono. Sicuramente non nel modo in cui si aspettava il pubblico e la critica. Io ricordo recensioni all'epoca che stroncavano a priori i giorni due dì, solo perché erano due dì e non due dì. Eclatante all'epoca fu il voto di Battere la Renato Shigen, non ti ricordo, 105%. Sono ad estata di cui non voglio fare il nome, mentre perle come Astal passavano in sordina etichettati come il classico platform due dì. una cosa è certa, per gli appassionati di retro gaming in Saturn era una cosa stupenda. A parte i classici da solo giochi, qui trasposti in modo perfetto, i giochi due dì del Saturn ne sono meravigliosi e invecchiati in molto meglio di quelli 3D dell'epoca. Ricordiamo infatti che alla fine del millennio il 3D muoveva ancora i primi passi e i giochi che ne facevano uso, è un uso smodato, cos'è di dire, erano ancora a germe. Sì, 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 sì. Ma Giovanni, anche oggi io devo farti la classica domanda. Se volessimo giocare a Saturn, che consigli ci dai? Allora, primo consiglio, questo ormai i nostri follower lo sanno, procuratevi un buon CRT. E tenetevelo caro. Assolutamente sì. Il secondo è di procurarvi una console giapponese o in alternativa di rendere region free la vostra europea tramite una modifica. Altra cosa importantissima, e questo vale per tutte le vecchie console dotate di lettore CD, rimuovete il lettore CD e installate un FPGA che ne simula il funzionamento tramite una microSD o un hard disk. Per quanto riguarda l'emulazione, l'hardware tramite FPGA attualmente ha un core che stanno quasi ultimando. In ogni caso vi lasciamo il link in descrizione se volete seguire il progetto. E inoltre, se volete entrare a fare parte di una community retro gamer, vi consigliamo di seguire il canale su Telegram Retro Gaming Italia, con il quale abbiamo deciso di collaborare proprio da qualche giorno, dove troverete un interessantissimo approfondimento su Virtua Fighter 2 per Sika Saturn. Se anche questo video è finito e per la prima volta abbiamo deciso di dividirlo in due. In due parti, sì. Quindi speriamo che questo format vi sia piaciuto, fatecelo sapere nei commenti. Se non l'avete già fatto, ricordatevi di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Inoltre, ci piacerebbe che lo fate molto spesso, raccontateci un vostro ricordo su questa console. Insomma, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!